È stata una bellissima gara, siamo partite già forte, forse avvantatati dalla discesa e poi ho formato un gruppetto con le mie compagne, Valentina Costanzi sarà abrogiato e poi si è rimasta solo in entrare, ci siamo date una grossa mano e alla fine della salita ne avevo ancora e poi forse grazie al tipo che c'era in fondo alla salita mi ha dato una sfida in più e quindi sono partita e alla fine sono riuscita ad arrivare terza. È sempre bello correre qui a Pettinengo, il percorso è molto duro, io sapevo oggi che avrei fatto molta fatica perché sono un po' indietro con la preparazione, dopo l'importunio sto recuperando, sto crescendo di condizione quindi oggi era importante per me fare un test qui, è andata bene, il pubblico fa sempre il tipo per noi italiani quindi è bellissimo correre qui, grazie.